Nella mia pratica clinica io mi avvalgo di molti test per poter personalizzare l'intervento, l'intervento di tipo terapeutico, nutrizionale, in maniera che sia realmente un approccio disegnato e tagliato su misura sulla persona. Uno di questi test che utilizzo e che veramente ho mai avuto la prova che sia veramente un test affidabile e molto utile è il test S-Drive Cell Wellbeing. Questo test si avvale di un device, uno strumento che è questo, dove praticamente vengono posizionati alcuni bulbi di capelli che messi sopra, vedete questa è la spirale di Tesla, praticamente viene identificata una determinata frequenza elettromagnetica che viene mandata a un server in Germania dove c'è un computer, un software che ha praticamente in memoria le frequenze elettromagnetiche di tutti gli organi, sistemi, i minerali, le vitamine eccetera ed è in grado di vedere se ci sono delle dissonanze e quindi identificare già un problema che è magari in fase iniziale, che non è, che non si è ancora identificato in una patologia o in un problema anatomico. È un concetto legato alla fisica quantistica e a quella nuova disciplina che è la medicina quantistica, che mi rendo conto che per i più può sembrare una cosa strana, ma ormai anche tante strumentazioni utilizzano queste metodologie. Ebbene, utilizzando questo test recentemente mi sono accorto che i pazienti che avevano o contratto il virus SARS-CoV-2, cioè avevano avuto la malattia Covid-19 o avevano fatto il vaccino, nel referto di questo test identificavo una percentuale superiore comunque all'80%, mentre in coloro che non avevano avuto il Covid-19 e ne avevano fatto il vaccino la percentuale era inferiore al 20%, questo test identificava un'alterazione a livello sia del sistema cardiovascolare che del sistema immunitario, identificati da praticamente una zona rossa che indica la priorità, cioè il sistema dove bisogna intervenire prima e bisogna dare più importanza proprio perché il sistema è più squilibrato e può essere fuoriero di patologie. Ovviamente questo porta a dover prendere determinati provvedimenti perché noi sappiamo che per quanto riguarda soprattutto la malattia che causa problematiche che quasi sempre sono proprio quelle a carico del sistema cardiovascolare, noi abbiamo però ormai, anche se non vengono considerati più di tanto, inquadrato determinati approcci terapeutici che sono in grado di contrastare subito immediatamente la replicazione del virus e successivamente anche l'infiammazione perché ovviamente la prima cosa sarebbe bloccare la replicazione del virus e in questo possono fungere determinate farmaci come per esempio i anticorpi immunoclonali di cui si parla oggi. Ma senza dubbio l'evento poi causante diciamo la gravità della malattia è la cosiddetta tempesta citochinica di cui si è parlato molto che causa poi la disregolazione del sistema immunitario che porta poi addirittura una risposta a tutto immune. Ebbene la tempesta citochinica è un'iperinfiammazione che ovviamente deve essere trattata immediatamente con degli antinfiammatori e possiamo considerare tranquillamente vari fans ma anche il cortisone, cortisone che tra l'altro oltre ad essere antinfiammatorio è anche immunosoppressivo e quindi tende a diminuire questa risposta ad ento immune che poi foriera del grosso problema che poi porta a una risposta eccessiva del sistema immunitario verso i tessuti dell'ospite stesso. D'altronde già l'istituto Mario Negri in uno studio ha dimostrato come l'assunzione subito di un antinfiammatorio e anche cortisone relativamente bassi dose immediatamente è in grado già di migliorare l'outcome nel caso dell'infezione covid-19 cioè quindi di ridurre assolutamente i rischi gravi dell'infezione. Quindi mi raccomando assolutamente non tenete in considerazione le linee guide tachipirine e vigili attesa perché a mio parere sono state la causa di tante morti che sarebbero potute essere evitate qualora si fosse intervenuto invece in maniera precoce. Detto questo viceversa per quanto riguarda i vaccini e purtroppo noi sappiamo che i vaccini possono avere degli effetti collaterali. Statisticamente possono anche essere dei numeri non elevati rispetto al numero di vaccinazioni soprattutto gli effetti collaterali particolarmente gravi tipo le morti però esistono queste morti improvvise post vaccino spesso non vengono messe in relazione poi non c'è magari una correlazione certa però questo è un dato di fatto ed è un dato di fatto che uno degli effetti collaterali del vaccino siano le miocardite e le pericordite soprattutto nei giovani maschi. Questo perché soprattutto diciamo la proteina spike che viene prodotta tra l'altro da il DNA messaggero ha un particolare tropismo proprio a livello dell'endotelio debascolare quindi del cuore e quindi può generare problematiche. Cosa fare? Realmente ancora non lo sappiamo che cosa si può fare e quindi io non voglio certo essere quello che vi dà diciamo delle indicazioni per poter essere tranquilli e sicuri però se il maggior rischio è quello di tipo cardiovascolare è ovvio che potenziare aiutare il nostro cuore è senz'altro importante. E allora a questo punto senza dubbio mi viene da suggerire l'utilizzo di un integratore il coenzima Q10 che ha un tropismo particolare a livello del muscolo cardiaco perché il cuore è quell'organo che ha la più alta concentrazione di coenzima Q10 e tra l'altro si è visto che proprio il rischio di infarto e di malattia cardioscolare è aumentato proprio in persone che hanno bassi livelli di coenzima Q10 e utilizzare dosi abbastanza elevate da 100 fino anche 500-600 mg di coenzima Q10 in pazienti che hanno avuto eventi cardiovascolari è in grado di favorire un miglior recupero. Quindi in questo caso io assolutamente consiglierei a tutte le persone sia che hanno avuto il covid sia che si sono sottoposte al vaccino di utilizzare il coenzima Q10. Un'altra sostanza che aiuta il sistema cardiovascolare è senz'altro la vitamina K2. La vitamina K2 credo che sia anche giusto utilizzarla perché in questo momento credo che la maggior parte della gente siccome anche il sistema immunitario ovviamente messo sotto pressione e anche in questi soggetti è alterato probabilmente molte persone utilizzano la vitamina D giustamente per stimolare il sistema immunitario ma la vitamina D a dosaggi alti potrebbe aumentare anche aumentando l'assorbimento del calcio l'eventuale deposito di calcio nelle arterie quindi favorendo il rischio di calcificazioni a livello delle arterie per cui la sommistazione di K2 invece finalizza questo maggiore assorbimento di calcio e indirizza il calcio verso le ossa dove appunto possono aumentare appunto la densità ossea e la mineralizzazione del tessuto osseo che è il naturale destino del calcio quindi ripilogando coenzima Q10 particolarmente utile per il suo effetto antiossidante e perché aumenta a livello dei mitocondri delle cellule cardiache la produzione di energia e questo vuol dire più energia per il cuore vitamina D fondamentale per la stimolazione e la miglior performance del sistema immunitario a dosaggi anche abbastanza alti minimo 2000 unità fino a 4000 unità e tra l'altro bassi livelli di vitamina D sono associati anche a maggior rischio cardiovascolare ma alti dosaggi di vitamina D aumentando l'assorbimento del calcio ne potrebbero favorire il deposito a livello delle arterie aumentando così il rischio di aterosclerosi e quindi in questo caso è bene associare la vitamina K2 che invece indirizza il deposito di calcio a livello delle ossa e inoltre la vitamina K2 ha un effetto di per se stessa protettivo a livello del sistema vascolare